Ci troviamo presso la sala prove del Circolo dell'Irapari, dove si sta preparando la commedia di Francesco Rinaldi, Lo Succaro dell'Irapari, per sentire dai protagonisti le sensazioni su questa commedia. Ci senti io da casa? Che sacio fai l'undi? Mi arrivi a toccare la faccia. Tu basta che fai giù, che scappi e fai giù con la parozza. Perché io mi prego a spasso con la parozza secondo ti. E quale sacio che ti ho fatto? Sacio che scappi la marina e la vendi la sera. A me che dà gli occhi sennò ti sfranchi una sediata tra... Mi colpa da qua, voi! Mi sono tornato in un bacacchia a me! Ci sono! Ci sono! Ma la montante è qui! Tu mi chiesi via, non sto metti a me! Tu via, sto fa a te salire, non sto metto a me! Mi chiesi via! Mamma mia, pigliare! Mi chiesi via! Mi chiesi via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. No, riprendi quando gli dici sotto... Dai, prepariamo il vino per fare i vinciti. Ma è ora non c'è da nessuno. Vedrai che tra un minuto saranno tutti finiti. Ho preso il tuo Mario. Volete sapere come andrà a finire la nostra storia? Vi aspettiamo tutti venerdì, sabato e domenica a 16, 17 e 18 aprile. Ciao! Sorelle e fratelli carissimi, il fine settimana dedicatelo al sano divertimento. Tutti a teatro a vedere questa bellissima commedia sullo zuccherificio. Parola di Don Giustino. Amen! Se volete te la barozza più bella della piana, ella che ci carcano le carote per lo zuccherificio, venerdì, sabato e domenica, venete su a vedere la commedia che io poi ce faccio fà pure in giretto. E che davvero fai? Volete farli matti? Se non volete farlo come vi, volete sapere come si ammazza gli porchi? Venite venerdì a 16, sabato a 17 e domenica a 18, a vedere come si scanna gli porchi! I nostri personaggi sono a sorpresa. Veniteci a vedere. Venerdì, sabato e domenica. Sono bravi e sono belli racconteranno per voi una storia importantissima della città di Rieti e soprattutto dei contadini della piana. Ciao!